Non le bastava il reddito di cittadinanza che percepiva regolarmente per sfamare la sua famiglia e così in compagnia dei suoi due nipotini di poco più di quattro anni di età al supermercato arricchiva il suo carrello con genere alimentare nascosti tra le parti intime ed una sacca di uso personale. Un modus operandi che metteva in atto con astuzia ormai una consuetudine quasi un lavoro ovviamente illecito e rigorosamente a nero ma ieri qualcosa è andato storto alla nonnina di Sarno che nel tempo aveva insospettito il personale di vari supermercati cittadini. Sono stati alle telecamere di videosorveglianza interne al supermercato di Via Mancuso a registrare i movimenti della donna e a scoprire il furto della merce esposta sugli scaffali del punto vendita. La donna, una sessantenne di Sarno con precedenti specifici, è stata fermata dal direttore dell'attività commerciale che intanto aveva sollecitato l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto gli agenti del commissariato di polizia di Stato agli ordini del dirigente Antonio Capaldo che a seguito della perquisizione operata hanno rinvenuto generi alimentari di prima necessità carne, pesce, affettati, latte per un valore di 499 euro abilmente occultati dalla nonnina che intanto era in fila alla cassa per poter pagare le uniche cose che evidentemente non erano più contenute nelle sue borse. Increduli nipotini ed impauriti dalla situazione sono stati consegnati ai genitori e la nonna colta in fragranza del reato di furto arrestata con il beneficio degli arresti domiciliari sarà giudicata per direttissima domani mattina. Una storia triste che probabilmente potrebbe nascondere altro tra la refurtiva infatti anche una bambola e dei giocattoli oltre a due barattoli di Nutella per rendere felici forse i suoi nipotini. Potrebbero essere i servizi sociali ora a prendere in carico la 60enne sarnese destinataria della misura cautelare domiciliare non è evidentemente stato sufficiente per lei il reddito di cittadinanza per sbarcare il Lunario. Grazie. 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 Grazie.